ciao a tutti oggi prepareremo i calamari con piselli il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti ingredienti sono calamari piselli pomodoro sale vino olio aglio peperoncino e prezzemolo diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo nel boccale l'aglio e il peperoncino e andiamo a tritare il tutto per 5 secondi a velocità 7 riuniamo un po sul fondo andiamo ad aggiungere l'olio e andiamo a insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere il vino calamari il sale continuiamo a insaporire per 3 minuti temperatura varoma senza il misurino anti orario velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere i piselli la salsa di pomodoro chiudiamo il coperchio stavolta con il misurino e proseguiamo la cottura per 16 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 i nostri calamari sono pronti andiamo a impiattare decorando col prezzemolo calamari con piselli grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti